Inutile raccontarcela, non importa quanto ami quello che fai, ci saranno giorni in cui proprio non hai voglia di fare nulla. Perché l'insicurezza prende il sopravvento e ti ritrovi sopraffatta magari dalla paura che niente di quello che fai funzionerà, che tutte le tue idee non hanno senso. E poi cominci a mettere in discussione ogni cosa, dalla validità del tuo progetto alla direzione intera del tuo business, se magari l'idea è già avviata, alle tue capacità di realizzarle o di continuare a crescere la tua attività, ma le responsabilità, i messaggi del team, le fatture, le mille altre cose da fare restano da fare perché hai scelto una strada piuttosto precisa che sai benissimo di essere equipaggiata per affrontare. E quindi quando ti ritrovi a scarica, senza letteralmente la benzina necessaria per procedere, vediamo tre cose che puoi provare a fare per recuperare sia motivazione che entusiasmo. Prima però una promemoria importante, se stai guardando questo video da YouTube ti ricordo di iscriverti al canale per ricevere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata. Se stai ascoltando questo podcast da Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita, mi raccomando lasciaci una recensione se hai trovato questo podcast utile. Magari facci anche sapere che cosa vorresti venisse affrontato, questo ci aiuterà a fare in modo che ogni puntata sia perfettamente in linea con le tue esigenze. E naturalmente ricordati di iscriverti al podcast tramite la newsletter dal sito Beats-academy.it slash podcast per ricevere non soltanto le nuove puntate ma anche e soprattutto il Beats Confidential, sono delle email carichissime di valore per la crescita della tua attività che condividiamo solo ed esclusivamente tramite newsletter. Quindi mi raccomando iscriviti, è gratuito e non c'è nulla da perdere, tutto da guadagnare. Ma torniamo alle tre cose che possiamo fare per recuperare un po' di carica quando veramente la tannica è vuota. La prima cosa che possiamo fare è continuare a pensare in grande e non vogliamo assolutamente illimitare i nostri sogni in alcun modo ma per realizzarli cominciare ad agire in piccolo, molto piccolo, piccolissimo, quasi minuscolo. Quindi se ti senti sovrastata dalle dimensioni di un traguardo spesso perché lo stai affrontando di petto come un blocco unico, invece cambia approccio, scomponilo in tanti micro obiettivi che siano più facili da raggiungere uno dopo l'altro, poi parti dal primo e usa l'esperienza che hai accumulato anche in quel piccolo frangente per raggiungere quello successivo. Piccoli passi uno dopo l'altro ti daranno lo slancio necessario per continuare ad agire con la massima motivazione e il massimo entusiasmo. E la ragione è molto semplice, con piccoli passi ti impegni a seguire un processo piuttosto che a raggiungere un grande obiettivo. Capita spesso all'interno della membership di Pizza Academy che molte ragazze arrivino totalmente sopraffatte dall'idea di potersi digitalizzare perché le cose che si potrebbero fare per far crescere la propria attività sul web sono effettivamente tante e sono tutte o quasi tutte valide. Potresti fare un webinar, potresti lanciare delle sponsorizzate, potresti aggiornare il tuo sito web, potresti aggiungere nuove offerte, potresti lavorare alla SEO, potresti incrementare la frequenza di pubblicazione sui social e chi più ne ha più ne metta. Ma di fronte a questo tsunami che cosa si fa? Si resta paralizzate oppure si comincia con un piccolo ecosistema digitale, come lo chiamiamo, che scomponiamo in piccole fasi e in piccole fasi tutte facilmente raggiungibili con il minimo dispendio di risorse. Solo a quel punto cominciamo ad aggiungere nuovi tasselli, ma un passo alla volta. Agire in piccolo riduce istantaneamente la pressione e aiuta quindi a focalizzarci sulla sistematicità, sulla costanza che giorno dopo giorno ci permette di arrivare alla metà che abbiamo in mente. Non sono le azioni audaci, i saldi nel buio, le scelte incoscienti a portarci al successo, qualunque cosa per altro successo voglia dire per noi. No, sono le piccole azioni ripetute nel tempo che poi si accumulano per arrivare a dare questi grandi risultati. La seconda cosa che possiamo fare è provare a farci una domanda chiave, questa è una cosa che faccio da un po' e che devo dire mi aiuta parecchio, è di una semplicità disarmante ma spesso funziona. La domanda è, anzi le domande sono due, la domanda di fronte ad una situazione in cui dovremmo fare qualcosa e non ne abbiamo nessuna voglia è cosa succede se non la faccio? E poi la seconda domanda che ci facciamo è, e cosa succede se invece la faccio? Ecco, quasi sempre quello che succederebbe se scegliessi di non fare quella cosa non mi crea uno scenario particolarmente allettante, non è qualcosa che desidero vivere ardentemente. D'altro canto se mi chiedo che cosa succederebbe se lo facessi di solito i vantaggi sono parecchi, soprattutto se si tratta di un lavoro che potrebbe risolvere un problema per la mia attività, potrebbe avere un risvolto importante per la mia attività, per la crescita della mia attività anche se faccio un pochino di fatica a mettermi in gioco magari perché non l'ho mai fatto. A volte quando ci sentiamo scariche di entusiasmo in realtà abbiamo soltanto paura di metterci in gioco. Ecco perché scomporre tutto in piccoli passi e provare a farci queste domande può davvero sbloccare completamente la situazione, ad esempio vogliamo proporre una collaborazione a qualcuno, dobbiamo preparare le slide per un evento, creare una nuova puntata del nostro podcast. Ecco chiediamoci che cosa succederebbe e come mi sentirei se non la facessi, quindi come mi sentirò se non la faccio e come mi sentirò e che cosa succederà se la faccio. La terza cosa che possiamo fare se la motivazione continua a mancare per molti giorni di seguito è dare una sbirciatina all'agenda per capire da quanto non stacchiamo la spina e intendo staccare nel vero senso della parola, quindi non prendersi una pausa solo per poi riempirla di cose che vogliamo anticiparci sulla tabella di marcia, non so se c'è qualcun altro che fa questa cosa puntualmente ogni volta che ha uno spazio libero perché a me capita spesso e devo controllare questa mia voglia di riempire lo spazio e di togliere ogni momento di vuoto, ma i momenti di vuoto, i momenti di pausa sono assolutamente necessari e come imprenditrice è facile sopravvalutare le nostre forze, lo è sempre, un po' come donne, un po' come imprenditrici, pensiamo di poter continuare a oltranza e anche quando sentiamo che dobbiamo staccare la spina diciamo no ma no ancora un po', forse posso procedere ancora, aspetta che finisco quest'altra cosa e poi tiriamo troppo la corda. Per evitare che questo accade quello che puoi provare a fare è programmare sempre qualche mezza giornata o qualche blocco di tempo interrotto di qualche ora jolly durante la settimana e lo fissi in agenda, lo fissi in calendario. Per me i jolly sono una cosa che utilizzo ormai da diversi anni e sono un costante salvavita per due motivi, se la mia agenda è troppo piena o piena a puntino per cui è proprio la mia agenda ideale, quella in cui praticamente faccio la super donna e non stacco un attimo riesco a fare praticamente l'impossibile e poi accade l'imprevisto che puntualmente accade e ovvio che l'agenda scoppia e scoppio anche io perché le cose cominciano a sovrapporsi, tutte le scadenze cominciano a slittare e mi stresso, mi viene l'ansia, mi preoccupo e poi comincio a pensare che non riesco a combinare un tubo, che non valgo niente e poi comincia la tiritera di tutti i pensieri mentali. Quindi avere delle giornate, delle semi, delle mezze giornate jolly, dei piccoli blocchi di tempo anche di qualche ora sparsi nel corso della settimana almeno un paio ci consente di ammortizzare questi imprevisti ma qualora l'imprevisto non si verificasse ci consente di riposare, di farli staccare anche al di là di quello che può essere il momento di stacco ufficiale che può essere quello serale, può essere quello del weekend che spero insomma siano dei momenti di stacco e se non lo sono devono assolutamente diventarlo. Quindi da un lato abbiamo le nostre giornate jolly, allo stesso tempo però quello che dobbiamo assolutamente fare è pianificare delle vere e proprie settimane di riposo distribuite nel corso dell'anno, questa è una cosa che io faccio molta fatica a fare tanto che a volte devo sforzarmi di prendere coscienza, io lo so dentro di me che non stacco da troppo tempo perché mi piace quello che faccio, perché se ti piace quello che fai allora non stai lavorando, ma sono delle sciocchezze, devi staccare e staccare è produttivo, è proprio quando stacchi che ti vengono le idee migliori, le soluzioni a cui non avevi pensato e allora prendi il coraggio a quattro mani, apri l'agenda, guarda quando è stata l'ultima volta che hai staccato e a prescindere da quando è stata, quindi che ci sia stata o che non ci sia stato questo momento pianifica nel corso di quello che resta dell'anno o nel corso di tutto l'anno se sei agli inizi dell'anno, dei momenti delle settimane o perlomeno delle giornate intere di riposo, le colori con un colore diverso in agenda e le blocchi già in agenda, non una settimana prima, non un giorno prima perché ti rendi conto che non stacchi da troppo tempo allora domani stacco, no, 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 le pianifichi e quando le pianifichi è impossibile che il riposo diventi stressante, diventa una vera propria e propria parte della tua agenda, del tuo piano d'azione. Rispettare il nostro equilibrio fisico e mentale è qualcosa che dobbiamo a noi stesse, a chi amiamo e anche al sogno che stiamo realizzando. Ok, se non è la pausa il problema e però l'entusiasmo continua a non esserci o a calare allora forse c'è qualcosa di più profondo che dobbiamo valutare, magari il nostro allineamento con l'attività che stiamo portando avanti. Personalmente ci sono passate almeno due volte negli ultimi anni e quando ho capito che la mia mancanza di entusiasmo era dovuta alla mancanza di allineamento, che non mi faceva affrontare serenamente proprio il lavoro quotidiano, mi chiedevo ma perché sto facendo sta roba? Ecco, ho deciso di darci un taglio, è ovvio che non è stata una decisione che ho preso dal giorno alla notte, a volte sono state decisioni che hanno richiesto anche un paio d'anni, quindi non è stato facile per niente, ma visto che mi è capitato un paio di volte devo dire che sono state le due decisioni più preziose sia per la mia vita professionale perché hanno aperto lo spazio per altri progetti, altre idee, ma anche per la mia vita personale perché non esiste produttività che regga la mancanza di allineamento, quando c'è una mancanza di allineamento è inevitabile che perdiamo la carica e l'entusiasmo. Tutto quello che ho condiviso oggi in questa puntata, naturalmente questo lo sottolineo perché ci tengo moltissimo non vuole essere una paternale da parte di chi ormai è al di sopra di certi problemi e quindi insegna dall'alto, assolutamente, so benissimo cosa significhi amare quello che fai e nonostante questo ritrovarti anche per più giorni di seguito a mettere tutto in discussione e non avere voglia di fare quello che dovresti fare. Una cosa però è certa, diverse cose motivano diverse persone, quindi prova questi suggerimenti, sperimenta creativamente però anche altre strade se questi non funzionano sapendo che solo sperimentando puoi trovare quello che funziona per te e nessun altro. Questo è tutto per questa puntata di Impact Girl, come sempre ti ricordo di lasciarci una recensione su Spreaker, Spotify, iTunes o semplicemente un commento sotto al video di YouTube o se stai guardando questa puntata dal blog nei commenti dedicati alla puntata all'interno del sito pizza-academy.it slash podcast dove ci racconti quanto ti è stata utile in questa puntata ma soprattutto in questo contesto specifico e cosa fai per recuperare l'entusiasmo quando cominci a sentirti scarica. Creiamo una bella ondata di ispirazione, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.